I talk show di Serra Aperta in prima serata su Noi TV. Sarà trasmesso mercoledì 31 maggio alle 21.15 il primo dei due appuntamenti della seconda edizione dell'iniziativa promossa da Coldiretti Lucca, Associazione Fioristi e Floricoltori Italiani, in collaborazione con Asso Floro per far conoscere il mondo del florovivaismo e la sua evoluzione in termini di sostenibilità, innovazione e competitività ai cittadini. Ospiti della prima puntata, dedicata ai fiori della primavera e ai loro molteplici utilizzi in casa, in giardino e sui balconi con tanto di dimostrazione pratica, il presidente provinciale di Coldiretti Andrea Elmi, insieme a Cristiano Genovali, presidente Affi e Ilaria Bertolucci di Florexport. Con serre aperte, Coldiretti Lucca, Affi e Asso Floro hanno riportato le aziende florovivaistiche del territorio al centro della scena economica e sociale spallancando le porte dei vivai ai cittadini. Il settore, infatti, conclude il presidente di Coldiretti Lucca, si contraddistingue per innovazione e sostenibilità ed è un esempio di dinamismo. Le imprese florovivaistiche, infatti, sono un'attività economica di cui il territorio deve prendere pienamente ancora coscienza.